Un saluto a tutte e a tutti quelli che ci seguono in questo viaggio di approfondimento di un tema che è molto attuale anche molto scottante e delicato che è quello del virus e dei vaccini in questa epidemia che tutti stiamo vivendo e su cui purtroppo c'è un'informazione un po' eccessiva, confusa, a volte disorientante per cui noi cerchiamo di fare come delle tappe in cui andiamo a schiarirci un po' le idee, andiamo a prendere le informazioni, i dati, le fonti, a fare dei ragionamenti che ci possano un po' aiutare. Oggi tocchiamo un tema molto delicato che è quello che in termine tecnico si chiama, con una parola strana in italiano, esitanza vaccinale che penso sia una traduzione dall'inglese però rende un po' l'idea di quell'atteggiamento che va da chi ha delle domande, dei dubbi sui vaccini a chi è un po' perplesso, a chi ne ha paura, a chi diffida, fino a quelli che sono contrari, che si rifiutano e addirittura quelli che di questo rifiuto fanno la loro identità. Io sono un Novax e cerco proseliti in questa mia campagna di sensibilizzazione. Tema molto delicato, complesso e difficile per cui per sviscerarlo abbiamo, e lo ringrazio moltissimo e ti do il benvenuto a Brugherio, Andrea Grignolio che insegna storia della medicina e bioetica a San Raffaele di Milano qui vicino a noi e al CNR. Grazie, benvenuto, davvero. Buongiorno, grazie, grazie a voi, grazie di avermi invitato. Le domande sono tantissime, come puoi immaginare, anche quelle che ho sentito in giro dalle persone, anche in biblioteca, che ci chiedono, insomma. Io vorrei che tu ci facessi, tu so che studi il fenomeno di questa esitazione vaccinale che io ho imparato dal tuo libro, Chi ha paura dei vaccini, esiste da quando esiste il vaccino. Cioè noi abbiamo inventato il vaccino e gli antivaccinisti insieme, insomma. Vorrei capire però com'è la situazione oggi? Cioè oggi la pandemia c'è, la malattia infettiva verso cui il vaccino ci deve salvare la vediamo. Com'è la situazione? Cambiata, peggiorata, migliorata? L'esitazione o esitanza appunto vaccinale è un fenomeno, come ha accennato Armando, che esiste da sempre con i primi vaccini, con i Enner, quindi già dai primissimi, fine Settecento, primissimi anni dell'Ottocento. Però bisogna fare due grandi distinzioni, e cioè sulla esitazione per la vaccinazione classica, cioè non in periodo epidemico, e l'esitazione in periodo epidemico. Sono due forme di esitazione diversa, perché naturalmente la popolazione, la cittadinanza sotto pressione epidemica reagisce in modo diverso. Lo possiamo intuire in modo molto semplice, un conto sono i genitori che devono sottoporre a vaccinazione pediatrica i propri figli, e in un contesto diciamo normale, standard, un conto è quando ci troviamo di fronte a un virus che naturalmente ha colpito l'intera popolazione mondiale, e siamo bersagliati quotidianamente da informazioni, c'è una forte percezione del rischio epidemico, e quindi naturalmente cambiano i parametri. Abbiamo delle ricerche, abbiamo degli studi, sì, non andrei troppo indietro nel tempo, naturalmente nel Novecento ci sono state tante pandemie, parliamo della spagnola terribile che ha falcidiato l'umanità del 1918-20, ha lasciato sul campo tra i 70 e i 100 milioni di morti, l'asiatica alla fine degli anni 50, quella di Hong Kong dieci anni dopo, la cosiddetta spaziale, perché eravamo nel 68, e io i dati più certi per cercare di dare una valutazione come si dice evidence base, basata sulle prove, dobbiamo ritornare, dobbiamo andare nel 2009 quando ci fu la suina, l'H1N1, perché in quel periodo emerse, appunto arrivò dal Messico questo nuovo virus, quando gli esperti lo analizzarono si resero conto, non l'ho nominata a caso la spagnola, che era il ceppo proprio di H1N1, cioè lo stesso che appunto nel 18 aveva creato un'ecatombe mondiale, e naturalmente ci fu, le autorità sanitarie balzarono sulla sedia, ci fu un grande dibattito, e il timore era quello di una seconda spagnola. Siamo nel 2009, quindi sono dati affidabili, non dati appunto agli anni 50, agli anni 60, bene, in quattro mesi e mezzo riuscirono a produrre un vaccino, un vaccino monovalente per questo tipo di virus, che fortunatamente, diciamolo subito, ma lo sappiamo, l'abbiamo saputo dopo, non era così letale e così pericoloso come quello della spagnola, ma questo allora non si sapeva. Quindi abbiamo un contesto un po' paragonabile a quello di oggi, cioè abbiamo una forte pressione epidemica sulla popolazione, abbiamo le autorità sanitarie che in breve tempo, ancora di meno, producono un vaccino, ebbene i dati che abbiamo allora sono che in media tra l'Europa e gli Stati Uniti, adesso non entro troppo nei dettagli, però la popolazione era favorevole tra il 40 e il 55% all'innupolazione di questo vaccino. Allora cosa succede? Ci rendiamo conto? Paradossalmente saremmo disposti, diciamo, se noi avessimo un approccio razionale, saremmo disposti, non riusciamo a capire perché, perché sostanzialmente c'è un virus che circola potenzialmente molto pericoloso, eppure la popolazione esita nei confronti della vaccinazione. Allora, siccome dovremmo rispondere a tante domande, dirò, sarò molto sintetico, diciamo che sostanzialmente ci sono due grandi motivi per cui la popolazione esita nei confronti di un cosiddetto vaccino pandemico. La prima ragione è sostanzialmente la novità. La popolazione esita perché è un vaccino, quello pandemico, che viene messo sul mercato, viene distribuito molto velocemente per un virus nuovo e un vaccino nuovo. Quindi c'è questa esitazione nei confronti di qualcosa che è nuovo e che quindi in qualche modo non sembra essere abbastanza certo, efficace e sicuro. L'altro motivo che la letteratura riporta è quello che viene definito anche effetto cavia, cioè molti magari sono anche potenzialmente disposti a sottoporsi ma vogliono aspettare, perché non vogliono giocare il ruolo della cavia. Oggi aggiungerei un terzo motivo rispetto alla novità e all'effetto cavia, che è quello sostanzialmente della disinformazione sul web. Nel 2009 il web non era così distribuito come lo è oggi. Nel 2021 il carico di disinformazione, le cosiddette fake news bufale non erano così diffuse. Questo impatto della disinformazione sui social media oggi è misurato da tanti articoli, ce ne sono stati due su Nature molto interessanti e ci dicono che questi hanno un largo impatto. Quindi il discredito sia nei confronti del vaccino, nei confronti delle istituzioni sanitarie è molto forte e questo ha un grande impatto sulla popolazione. Questi sono sostanzialmente i motivi che hanno un impatto negativo. Ci ho detto, e chiudo su questa prima domanda, io credo molto, e la letteratura lo sta un po' dimostrando, credo molto nell'effetto carrozzone, cioè nell'effetto quello che si chiama tecnicamente bandwagon, per cui anche quella porzione di popolazione che non è integralmente contraria, cioè non i veri novax alle vaccinazioni, ma che esitano con qualche ragione nei confronti di una novità come un nuovo vaccino, piano piano che vede la popolazione vaccinarsi, che è sicura e che riguadagna libertà, affetti e contatti sociali, sale sul carro del vincitore, cioè alla fine si converte quando uno vede che il tabaccaio, l'amico, il conoscente, il dirimpettaio poi alla fine si è vaccinato ed è libero di muoversi, piano piano l'effetto trascinamento funziona ed è quello che piano piano sta avvenendo, tant'è che l'esitazione, tutti i dati dicevano che a ottobre erano più o meno un terzo della popolazione mondiale, o quantomeno quella occidentale era fortemente contraria, adesso si è ridotto più o meno a un 10-15, quindi la fiducia si sta, stiamo guadagnando fiducia. Ma in queste ragioni e fattori che portano a essere un po' diffidenti, sono questa deriva del complottismo che detta così fa un po' ridere, il 5G, la modifica del DNA, sono tutti dati che veramente non hanno nessun appiglio, è presente davvero, nella mia idea è più presente la diffidenza del genitore che non sa che ha dei dubbi, mentre questa cosa del complottismo tu dici che invece esiste, ha una sua diffusione? No, esiste ed è stata anche misurata, ci sono anche per chi è curioso, è stata misurata anche in Italia, c'è un'analisi delle SWG che riporta dati peraltro coerenti con quelli internazionali, e cioè che tra il 20 e il 25% della popolazione inclina verso spiegazioni complottiste, che vanno da ragioni, dall'idea, dalla credenza per cui il virus è stato creato in laboratorio in modo intenzionale, all'idea che la stessa pandemia sia per lo più una montatura, ma che sia poco più che una influenza, sino all'idea che dietro i vaccini ci sia un grande complotto economico e che in fondo non servano e che vengono messi in circolo per meri scopi economici finanziari. È molto diffusa e diversi studi lo hanno misurato, in Italia la SWG ha fatto a ottobre questa analisi ed è molto diffusa. Una curiosità per capire come si fanno queste indagini, perché per prepararmi stavo guardando un po' di dati, ho trovato questa differenza nel fare la domanda al campione di ricerca, in cui le domande sono in questo caso di tre tipi, se secondo te i vaccini sono safe, quindi sicuri, se sono effective, quindi penso efficaci e se sono important, che credo sia importanti per la collettività. E mi stupisce che le risposte a queste tre domande hanno delle percentuali diverse, se puoi spiegarci un po' questo fenomeno. Sì, specialmente sull'ultima. Sì, è molto interessante questa, è una bellissima domanda, molto tecnica in realtà. Dunque, questi sono i tre grandi punti. Sul terzo c'è molta incomprensione, secondo me, c'è molta ideologia sul terzo. Dirò una cosa sgradevole sul terzo, ma la scienza a volte dice cose controintuitive, noi dobbiamo dirle. Il dato non si interpreta, o si interpreta molto poco, va accettato per quello che hai. Dunque, sì, il primo punto ci chiede, se non ricordo male, se era effective, era il primo? Il primo era safe. Ah, safe, va bene. La prima è la grande questione, cioè, che è quella che poi passa nei tre health clinici, qualsiasi nuovo, diciamo, farmacoterapia, primum non nocera, no? Diceva, si diceva già dai tempi di Procrata. La prima cosa che dobbiamo fare è che, naturalmente, valutare che non sia nocivo. E qui ci sono, in effetti, molti che ritengono, ma sono i più radicali, questo noi lo sappiamo, cioè che addirittura i vaccini facciano male, che hanno una serie di reazioni avverse molto pericolose e, per esempio, chi ha questo atteggiamento tipicamente ritiene che l'infezione naturale sia migliore o più safe del meccanismo naturalmente finto, sappiamo che è una finta infezione quella creata dal vaccino. E quindi qua tagliamo fuori una parte, diciamo, di tipo di esitazione. Poi c'è invece chi non ritiene che i vaccini siano dannosi, ma li ritiene inutili. Ci sono quelli, per esempio, che ritengono come... ho detto che, per esempio, la pandemia sostanzialmente sia esagerata oppure persone che non sanno bene leggere i dati, che è normalissimo per chi non è esperto. Ad esempio, è certamente vero che un ultraottantenne con polimorbidità sia molto più a rischio. La mia categoria d'età, che va fra i 40 e i 53 anni, è quella delle categorie dell'OMS che ha fatto un'analisi, per esempio ha lo 0,4% di letalità. Quindi è chiaro che per me non ha un impatto di salute immediato, ma le pandemie non devono essere valutate per l'impatto di letalità, o certamente anche per l'impatto di letalità, ma per l'impatto di diffusione di un virus epidemico. Perché chi è che passa all'ottantenne il virus? Naturalmente sono io. Quindi non devo occuparmi semplicemente del fatto che io non sarò ospedalizzato, ma che io sono veicolo vettore di un virus. Ecco che in questo senso invece il vaccino è efficace? Certo che è efficace, perché abbiamo visto, per esempio, tutti i dati sulla Scozia, i dati sull'Inghilterra, soprattutto i dati sull'Israele, che la vaccinazione è estremamente efficace nelle due direzioni. Sia di non portarmi tutti i vaccini hanno una grandissima efficacia nell'impedire l'ospedalizzazione delle persone che si sono sottoposte al vaccino, ma soprattutto di interrompere la catena di distribuzione e trasmissione del virus. Sul terzo punto è molto importante, perché le persone che parte di cittadinanza si sottopone al vaccino per altruismo, cioè non tanto per tutelare la propria salute, ma per impedire la cosiddetta herd immunity, cioè la copertura sociale permessa alla vaccinazione. Noi oggi sappiamo che lo fanno molto pochi, cioè solo quella porzione di popolazione che è molto sensibile, che ha forte inclinazione verso l'altruismo, ma mentre fino a un po' di anni fa si consigliava al vaccinatore, al medico di insistere sulla copertura sociale, quindi l'importanza della vaccinazione come atto altruistico o come atto civico, noi oggi sappiamo che naturalmente questa è una spinta che è presente solo in una piccola porzione di popolazione e che in realtà quando un genitore porta il proprio figlio a fare la vaccinazione non gli interessa che quella vaccinazione copra altri bambini, ma è preoccupato degli effetti avversi che quella vaccinazione ha sul proprio figlio in quel determinato periodo. E questo vale anche, ahimè, per il periodo pandemico. La maggior parte dei cittadini non è interessata al gesto altruistico, è interessata alla copertura, diciamo, del personale e dei propri cari. Quindi non ha grande senso insistere su questo aspetto, però è un tema che naturalmente va discusso e va ricordato. Ecco, ci dobbiamo ricordare tutti che siamo anche, la vaccinazione è anche un grande gesto democratico. è un atto, la vaccinazione è una discussione che tiene gli animi molto accesi proprio perché è democratica, nel senso proprio più puro del termine, perché dentro la trasmissione del virus o di un batterio ci siamo tutti, se tutti agiamo insieme riusciamo a fermarlo, non posso arrogare il diritto, non posso arrogarmi il diritto di non vaccinarmi perché la mia scelta impatta sulle conseguenze, sulle scelte altrui, e quindi vediamo che il nostro corpo non è un corpo individuale ma è un corpo sociale e non siamo più abituati da molto tempo a pensarci come organismi sociali all'interno di un gruppo. Cioè questo individualismo, io ho posizioni liberali, quindi non sono assolutamente contrario all'individualismo come meccanismo di crescita, però naturalmente come tutte le cose l'individualismo ha un limite. Ecco, questo è uno dei tanti limiti che ci viene imposto dalla pandemia e che ci viene ricordato. Ecco, questo ragionamento che tu fai è proprio ovviamente molto condivisibile, ma nel senso che è proprio molto argomentativo e pacato, però c'è un punto che mette molte persone in crisi su cui vorrei sollecitarti, che è il fatto che è una percentuale, io non so se ho capito che è del 5%, del personale sanitario che ha posizioni di rifiuto del vaccino. A questo punto la gente comune resta spiazzata, perché uno associerebbe il rifiuto a ignoranza, ma se anche medici, infermieri e tecnici sanitari si rifiutano, forse c'è qualcosa sotto. Com'è che possiamo vedere questo strano fenomeno? No, Ergelo, questo è un grande tema. Io, diciamo, per esempio, non sono a favore dell'obbligo vaccinale, l'ho sempre abbastanza sostenuto, però faccio una sola eccezione, cioè quella per il personale sanitario. E almeno per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivo è semplice, il personale sanitario non può non vaccinarsi, perché è a stretto contatto con le persone fragili. Quindi andare in un ospedale, frequentare appunto un ospedale, e quindi essere a contatto con persone fragili, è un elemento discriminante, cioè le persone che non sono vaccinate possono effettivamente trasmettere il virus a persone che sono già rese fragili da altre patologie, e questo rende molto complicato naturalmente il discorso. In più, però, bisogna ragionare sul fatto che mentre, come è accennato, le persone, il cittadino, chiamiamolo comune, non ha gli strumenti culturali e quindi, immaginiamo, bersagliato da una compagna di disinformazione possa dubitare fino a esitare nei confronti della vaccinazione, questo non è ammissibile per i medici e i sanitari, che invece si sono formati e quindi hanno il dovere di conoscere e saper distinguere quelle che sono le informazioni false dalle informazioni vere sul vaccino. Ci si chiede davvero che cosa abbiano studiato questi sanitari per poter dubitare del vaccino. Non ci sono dati a disposizione che abbiano fondamento e che ci facciano dubitare del vaccino. I vaccini sono il presidio sanitario più sicuro e più efficace che noi oggi abbiamo. Voglio dare dei dati in questo senso. Il numero di reazioni avverse del vaccino sono infinitamente inferiori a qualsiasi altro trattamento farmacologico, anche al più semplice come sono per esempio le aspirine che hanno 1500 volte il numero di reazioni avverse più alto dei vaccini. Non c'è, e questo per quanto riguarda la sicurezza, sull'efficacia lo sappiamo, prendiamo l'esempio di Moderna o di Pfizer, i due vaccini RNA raggiungono tra il 94 e il 95% di efficacia. Non c'è nessun farmaco che arrivi a un'efficacia del genere. Quindi sono i più sicuri, i più efficaci e tra le altre cose i più controllati proprio perché si fanno a persone sane che non è. E quindi un medico o un sanitario queste cose le studia durante il corso di formazione quindi non ha scuse diciamo. Ecco, questi due aspetti frequentare naturalmente ospedali, persone fragili e la conoscenza della disciplina ci fanno, ci spingono oltretutto a pensare che ecco per queste categorie l'obbligo sia davvero prefigurabile e immaginabile. Tra le altre cose c'è ma io non sono esperto su questo non mi piace parlare di cose di cui non sono esperto ci sono diversi giuristi che dicono che c'è un terzo elemento cioè lasciamo stare la sanità privata ma immaginiamo la sanità pubblica come si pone diciamo un medico che è pagato dallo Stato in strutture sanitarie pubbliche che rifiuta il vaccino e che mette a rischio la sanità pubblica. Allora lì si può addirittura entrare con un obbligo davvero di tipo contrattuale cioè in un ospedale un medico che si occupa di questioni sanitarie non può davvero diciamo sottrarsi a qualche cosa ma di ambito giuridico io non vorrei parlare ma appunto vorrei nominare. Quindi ecco su questo vorrei innanzitutto chiudere su questa domanda dicendo che fortunatamente qui c'è un effetto sbilanciamento dell'informazione in realtà è una porzione molto piccola quella dei sanitari che rifiuta il vaccino ma che naturalmente vengono messe in grande evidenza dai quotidiani dalle notizie sui telegiornali ecco però fortunatamente è una porzione molto piccola la stragrande maggioranza degli sanitari però però è davvero colpisce molto che ci sia anche una piccolissima porzione di sanitari che non lo faccia ecco ecco a proposito di questa del ruolo dell'informazione perché come dici tu le statistiche sono i dati sono dati non sono non sono opinioni insomma e mi è capitato proprio l'altro giorno in questo libro divulgativo che si intitola i numeri non mentono è proprio un capitoletto dedicato ai vaccini e li considera l'investimento più remunerativo cioè hanno calcolato per ogni dollaro investito in un vaccino quanti se ne risparmiano e si arriva da 44 a 58 e addirittura ancora più volte che si risparmia per la collettività eppure basta un titolo sul giornale pensiamo al caso AstraZeneca diffonde una paura emotiva molto forte tutti questi numeri perdono completamente ogni valore nel giudizio di ogni persona io so che tu hai studiato molto proprio l'approccio cognitivo ciò che si parla di bias cognitivi che è una parola che comincia ad avere diffusione ma se magari ci spieghi un attimo che cosa significa e come il cervello ragiona su queste vicende sì i bias cognitivi sono degli errori sistematici di giudizio che sono cablati nel nostro cervello dall'evoluzione cioè noi oggi ci troviamo in contesti decisionali che non sono stati previsti dall'evoluzione noi siamo rimasti migliaia e migliaia di anni nella savana del Pleistocene in bande di 30-50 individui dove le previsioni a lungo termine il calcolo rischi e benefici non erano naturalmente quelli attuali se esistevano e quindi questi sono queste decisioni molto complicate che noi oggi dobbiamo fare anche questo sovraccarico informativo mediatico è qualche cosa di molto recente nella storia dell'umanità qualcosa di così recente che il nostro cervello non è diciamo adatto a gestirli ed è quello per cui gli psicologi evoluzionisti chiamano dicono che noi siamo unfit to modernity siamo disadatti alla modernità ecco questo disallineamento fra le nostre capacità cognitive e la modernità è uno dei meccanismi che ci spiega cosa sono questi errori sistematici di giudizio che sono quelli che compiamo quotidianamente su questo sono stati sulla scoperta di questi bias cognitivi sono stati assegnati tre premi nobel e noi oggi ci rendiamo conto molto chiaramente per esempio che uno di questi è quello che appunto tu hai citato è il false balance cioè l'idea che purtroppo è molto presente in ambito mediatico cioè di fare dei programmi in cui si dice si dà un doppio bilanciamento cioè i vaccini fanno bene invitiamo qualcuno che ci dica che i vaccini sono efficaci e qualcuno poiché c'è nella collettività una parte dell'opinione pubblica che pensa che siano dannosi invitiamo qualcuno a parlare ecco c'è questa grande incomprensione e la scienza viene trattata come per esempio non so qualcosa di estetico di artistico se è auspicabile che qualcuno inviti in trasmissione qualcuno a parlare se sia meglio poniamo Fellini o Antonioni o se sia meglio una riforma o meno del senato e allora qui due opinioni è giusto che siano equamente bilanciate quando abbiamo a che fare con dati scientifici non ha alcun senso facciamo il solito esempio classico è inutile invitare qualcuno in trasmissione che dica che la terra è piatta e invitare uno scienziato che ci dice che la terra è tonda il dato ci dice una cosa molto chiara e noi dobbiamo rispettarlo ecco questi errori continui che noi facciamo nel valutare oppure nel dare nel caso specifico che mi hai fatto salienza cioè rilevanza mediatica ha diciamo un'incidenza sulla popolazione dei trombi che noi sappiamo essere perfettamente nello standard nella norma naturalmente ha un grandissimo impatto sulla popolazione e queste sono cose molto complicate da spiegare perché la statistica noi lo sappiamo attraverso Kahneman lo sappiamo attraverso Gigerenser noi sappiamo che abbiamo grande difficoltà a capire il ragionamento probabilistico quindi è molto complicato spiegare diciamo alla cittadinanza quello che è l'andamento dei trombi attesi durante un anno cioè vedere quelli che sono il numero di effetti trombotici per esempio nel 2009 che erano identici nello stesso periodo a quelli durante la somministrazione di AstraZeneca ecco noi sappiamo che quando un evento traumatico arriva dopo il vaccino qualche settimana o ora dopo il vaccino viene messo in correlazione di causazione con il vaccino siccome è avvenuto dopo allora ne è conseguenza ecco ci sono tutta una serie di meccanismi molto complicati che sono davvero molto presenti nel nostro cervello che diciamo in questo caso si fanno vedere con grande forza ed è il motivo se no parliamo solo della parte destruent se non parliamo della parte costruent ed è il motivo per cui in tanti sostengono io sono fra questi che per le prossime generazioni noi dobbiamo sviluppare fin dalle prime classi fare una formazione proprio nei confronti del metodo scientifico proprio incentrata anche sui bias cognitivi dobbiamo sapere che cos'è un campione statistico dobbiamo sapere che cos'è l'effetto placebo dobbiamo sapere la differenza fra causazione e correlazione all'interno di una finestra temporale insomma dobbiamo formare le nuove generazioni con questi nuovi tipi di strumenti se no entriamo in una specie di coazione a ripetere dove ogni cinque anni diciamo sempre le stesse cose non riusciamo a scantonare da questi errori ascolta ma a partire dalla tua esperienza che è lunga tu sei una persona che più di tutte ha studiato questo fenomeno cosa diresti a noi intendo cittadino comune personalmente io sono convinto ovviamente delle cose che tu ci hai raccontato però mi capita di avere a che fare con la persona che ha dei dubbi che ha delle domande che ha delle perplessità che accenna anche a qualche argomento contrario qual è il modo migliore di relazionarsi perché c'è qualcuno che contrattacca in modo molto forte ma ottiene praticamente nessun effetto qualcun altro dice bisogna prendere sul serio le paure e le obiezioni per poterle affrontare insieme tu cosa suggeriresti? beh io suggerirei di non avere un atteggiamento sfidante perché non è non è produttivo non è facile devo dire che dipende dal tipo di esitazione che si incontra cioè quando abbiamo un esitante molto radicale non c'è molto da fare se diciamo il suo essere Novax è identitario non c'è non c'è grande cosa da fare e non si può far nulla invece c'è ed è per fortuna la maggior parte un'esitazione di tipo razionale cioè sono dubbi leciti più o meno ma sono ragionevoli nel senso che sono disposti a essere diciamo rivisti ecco in questo senso diciamo è utile innanzitutto una propria manifestazione di fiducia io la prima cosa che faccio è per esempio far vedere nel caso delle vaccinazioni pediatriche che ho vaccinato le persone che ho più care al mondo cioè i miei figli li ho vaccinati e io mi occupo di queste cose da tanti anni mai avrei vaccinato i miei figli se avessi avuto dei timori e quindi io per primo diciamo è una testimonianza diretta mettersi in gioco direttamente e poi sostanzialmente si possono utilizzare diciamo vari argomenti non è non è pensabile che siamo che tutti i ricercatori del mondo siano siano corrotti naturalmente perché c'è quest'idea appunto che dei vaccini non si parli in modo chiaro perché c'è un atteggiamento diciamo diffuso di partecipazione economica con le multinazionali ecco questi si possono utilizzare degli argomenti ma in genere l'aspetto razionale non funziona molto ecco io parteciperei darei una partecipazione emotiva sotto questo aspetto e soprattutto insisterei su non punterei l'argomentazione sulla bontà o sicurezza cioè sull'efficacia sulla sicurezza dei vaccini perché se le persone hanno se i cittadini hanno delle convinzioni piuttosto radicate su questo è difficile scalfirle i dati ci suggeriscono un po' di esperimenti ci suggeriscono che semmai è opportuno insistere sui rischi diciamo di salute se non vengono fatte le vaccinazioni cioè di insistere più che altro sui rischi pandemici o sui rischi delle malattie infettive quando si hanno a che fare con i vaccini pediatrici perché sappiamo che è molto se noi agiamo diciamo facendo percepire un rischio di perdita di salute le persone tendenzialmente hanno una riescono ad assumersi il rischio della vaccinazione cioè noi sappiamo che siccome Homo Sapiens è avverso al rischio allora se noi creiamo un contesto di deprivazione diciamo del rischio il rischio viene assunto quindi anziché insistere sulla bontà dei vaccini si possono anche lasciare delle idee scorrette nei confronti della vaccinazione ma che è la verità è molto importante insistere sui rischi del morbillo della varicella quali che sono mortali sono reali oppure sul rischio naturalmente del covid che purtroppo insomma il numero di centomila morti come delta di differenza fra quest'anno e quello precedente c'è e quindi insisterei su questo dopodiché io poi lo ripeto sono ormai su posizione da diverse anni libertarie e quindi non c'è niente da fare diciamo se una persona è contraria fortunatamente il loro numero è limitato e quindi godranno godranno di quello che gli americani appunto chiamano free rider cioè da scrocconi godranno godranno come quelli che salgono sull'autobus senza pagare godono di un servizio di cui noi tutti gli altri paghiamo questo è un po' io sono un po' contrario a forzare le persone se non i sanitari che diciamo come ho detto è un discorso a sé stante hanno delle responsabilità diverse certamente per chiudere una curiosità così ma giusto per statistica l'Italia com'è messa nel panorama dell'esitanza vaccinale rispetto ci sono classifiche dei paesi sì ci sono classifichi ma non siamo diciamo siamo siamo in una fascia mediana diciamo i più in Europa i più esitanti sono i francesi in generale su un vaccino particolare che è il trivalente cioè il morbillo parotiterosolia storicamente lo sono gli inglesi ma perché hanno avuto il famoso caso Wakefield che era quello della bufala della frode sui vaccini autismo e ci sono diversi stati dell'est Europa che sono che sono molto esitanti un fatto curioso e su questo forse potremmo potremmo concludere è che ci sono diversi dati che ci dicono che la Russia è molto esitante ma quando non c'è democrazia o quando la democrazia è incompiuta si vede che esitanza della popolazione o meno quando c'è un obbligo e quando la popolazione è costretta a sottoporsi diciamo alla vaccinazione però diversi stati europei sono abbastanza esitanti in questo senso ho capito bene ti ringrazio moltissimo davvero per questa chiacchierata che sarà un punto di riferimento per tanti che si fanno tante domande ti auguro buona fortuna per tutto il tuo lavoro nella speranza quando riaffriremo e potremo vederci di persona di poterti invitare però a trovarvi tanto siamo vicini esatto ok grazie mille grazie a voi